Fere, facciamo una bella foto! Su, su, forza, forza, un bel selfie! Non mi piace fare le foto, Steffa, lo sai! Ma, Fere, dobbiamo fare la sfida dei selfie oggi e non ti piace fare le foto, ma come è possibile? Io non la faccio! Lo sai che odio fare le foto, quindi perché mi fai fare queste cose? Fere, devi fare le foto! Fai da... Sorridi! Fammi un bel... Un bel sorrisino, da brava, su, Fere! E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki! Io sono Steffa, che si giochiamo a GTA V! E perciò di un nuovissimo episodio di GTA V, in cui ci sfideremo a suon di selfie, ebbene sì! Esattamente! Fa ridere dirlo, ma è così! La sfida dei selfie oggi la chiamiamo, sì, la chiamiamo così! Allora, come funziona? È molto, molto semplice! Steffa ha preparato una bella lista di cose da fare! Come sempre, le tue liste illegibili, Steffa! Esattamente! Sai che cos'è però questa lista, Fere? Cosa? È una lista di location o di azioni da fare con un selfie! Molto, molto semplice! Cioè, per parte, un esempio, una cosa che c'è nella lista, ad esempio, è fare una foto con la polizia! Ok? Quindi tu dovrai, in qualunque modo tu vuoi, attirare la polizia e riuscire a fare un selfie, dove ti vedi sia tu, sia il poliziotto! Ok? È abbastanza difficile! Mentre mi sparano, va bene lo stesso? Sì, 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 l'importante... O devono stare calmi? No, no, l'importante è che ti vedi sia tu, sia un poliziotto! Ok, perfetto! Poi, quello che succede mentre ti fai la foto non è importante! D'altronde, nel selfie si vede soltanto lo scatto, non si vede tutto il contesto, capisci? Vedete che è combinato, sta arrivando la polizia! Mi sento! Niente, Steph! Non hai fatto nulla, è vero? Eccoli, 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 eccoli! Sei innocente! Ok! Aspetta, io mi preparo! Ok! Ti metto già di così! Vai, va bene! Perché secondo me adesso mi attaccano alle... Ti stanno già sparando, eh! Aspetta, devo far veloce! Gira! Ok! Questa è bellissima, Steph! Ce l'hai fatta? È fantastica! Praticamente c'è il poliziotto! Guarda che sta succedendo lì dietro! Il poliziotto che è appena uscito dallo sportello e mi sta mirando così, quindi è strabella! Bella, bella! Ok, perfetto! Salva nella galleria! Ma tocca a me, giusto? Sì! Ok! Ah, devi far... Ma... No, Steph! Steph! Devi chiamartela anche tu la polizia, Steph! Fere, ma è qua la polizia? No, Steph! Non so come mai è arrivata, però c'è... Devi chiamarti la polizia! Ok? Non vale se sfrutti le cose in me! Dai, ora mi devo muovere perché se ne vanno, perché non c'è più Fere! Sei falso, è bugiardo! No, l'ho coperto! La mia è molto più bella! No, ma non vale la mia perché non si vede! Fere, così va bene la foto! Aspetta, dai che ce la posso fare in tempo lo stesso! È colpa tua, eh! Cioè, gli hai fatti arrabbiare tu! Polizia! No, girati, girti! Devi girare! E come faccio? L'ho preso? Nella nuca mentre sparava! Ok? Vabbè! Mi sa che questa la vinco io! Fere, Fere! Anche se ha fatto la foto! Non lo so! C'è un sondaggio per ogni foto, Fere! Quindi lo decideranno loro! Come parcheggi bene, Fere! Tu sì che hai talento! Tanto non era mia! Che punto della metro dobbiamo scegliere? Puoi fare qualsiasi cosa, Fere! Dei limiti oppure no? Puoi fare qualsiasi cosa! Però io ho già deciso la mia! Uh, qui è bello! Qui è bello! La fai lì? Eh sì! Tu dove sei? Eh, non ti interessa! Non ti interessa! Questo è un posto molto bello della metro! Sì! Quindi la fai così? Sì! Sempre la metro, eh! Quindi vale! Corri, 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 Steph! Vai che ce la puoi fare! Ok! Adesso faccio così! No! Fere, non è giusto! Ma perché continui a entrare nei veicoli? Lo sai che non puoi farti selfie nei veicoli, Steph! Non riesco ad uscire! Dalla metro mi sta portando via! Ok, sto tornando! Io ne ho fatto una molto bella, Steph! Arrivo! Molto! I consolini la vedranno adesso, io la vedrò prima o poi, ma è proprio bella! Praticamente c'era una specie di... Ce l'hai presente qui così di nata la forma di stecca? Più o meno ricorda quello, tutto illuminato al neon! Ok! Io mi sono fatto una foto con quello! Ok! È molto bella, molto scenografica! Io invece... A differenza di te che fai solo fallimenti oggi, eh! Ti batto sulla simpatia! Solo oggi poi! Ti batto sulla simpatia, Fere! Ok! Ok! Fammi vedere! Devo dire poi le hashtag! Ok, guardami! No, no! Non mi dire gli hashtag! Guardami per sangiore mentre! Hashtag metro sempre in ritardo! Hashtag treno Italia non va bene! I treni Italia non arrivano mai! Hashtag Steph è bello! Che poi noi neanche lo sappiamo perché non abbiamo praticamente i treni qua! Esatto! Però va bene! Sono dettagli! Però tanto tutti si lamentano dei ritardi e quindi ci lamentiamo anche noi! Anche noi! Anche se non li usiamo! Questa ti piace tantissimo! Vai! Ok! Devi riuscire a fare la foto! Ok! Durante una rissa! Eh! Bella, bella, bella! Quindi tu devi far arrabbiare qualcuno! E mentre in procinto di picchiarti devi riuscire a scattare uno selfie! Un selfie! Eh! Non sarà semplice! Questo è difficile! Stai scendo! Perché devi vederla la scena! Eh! Sì! Sto cercando di arrivare! Questa la devi vedere anche tu! Ma perché dici che ci riesci? Certo! Non lo so! Io ho già un'idea! Allora lo faccio arrabbiare! Poi scappo lontana, correndo più veloce di lui! Rimango pronta nel selfie quando mi sta per dare il pugno scatto! Vediamo se ti esce, dai! Vediamo un pochettino! Fai arrabbiare qualcuno! Allora, questi! Ci sono! Ci sono! Ok! Attenta a non seminarlo troppo, eh! Corro! Corro! Nel mentre sto già aprendo la foto! L'hai seminato! L'hai seminato! Non è vero! Era ancora rosso! Visto! Disgraziato! Disgraziato! Non puoi essere così! Non pappa molla! Devi correre! Corri! Aspetta, aspetta! Si arrabbia? Ti arrabbia? O scappi? Dai! Non puoi! L'hai dimostrato che sei troppo veloce correndo e gli hai fatto paura! Allora, Ferre, lo sai che le signorine non sono come te? Teffè di cemento! Teffè di cemento! No! Ah, ok! Ma, mi scusi, io non volevo! Allora, andiamo qui! Tu! Ok! Ma quello non ti picchiera mai, Ferre! Ce l'ho, Stef! Ho notato! Attento a questa volta non seminarlo, eh! Ok, 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 ok! Eh, ma qua nel mentre ti pesta! Aspetta, zitto! Guardate, guardate! La miseria mi ha levato il cellulare! Ti ho detto che dovevo correre un po' di più! Aspetta, aspetta, aspetta! Ok! Aspetta, aspetta! Ti stai seguendo per ora? Vai, vai, sono pronta! Ok! Forse ce la fa? Sì! Non ci credo! Sì, ce l'ho fatta! Allora, non so se si è salvata! Ti dico la verità perché non mi ha dato il tempo di salvarla! Fammi vedere! Eh, mi sta di no, vero? Cavolo, non me l'ha salvata! Quindi non vale! Ah, sono tristissima! Ripicchiami! Ferre, guarda che il tempo sta per scadere! Ferre, se ci riesce adesso bene, altrimenti questa non ce la fai, eh! Così? Eh, no! Ti ha mollato! Non mi ha mollato! Ti ha mollato! Torna, torna! Sì, sì, ma sta camminando, gli è passato il nervoso! È difficile, eh! A me lo sta facendo venire il nervoso, eh! Eh, lo so! Secondo me lo devi stimolare un po' di più prima di correre! No, 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 no! Ti dà un pugno! Ti fa tutto veloce! Ti dà un pugno! Ferre! Ma in moglio lo rendo perché mi stai stressando! Ok? Questo è il tuo ultimo tentativo, eh! No, non è il mio ultimo tentativo! Sì, Ferre, ci sei in mezz'ora! Io prima ce l'ho fatta e che non me l'ha salvata, quindi mi conta! Quindi non ce l'ha fatta! Ok? È buono? Aspetta che non l'ho finito, porca miseria! Mi avete rotto tutti le scatole! Muori anche tu! Tu! E tu lì giù! Accidenti! Non ridere! Ce l'avevo fatta e che non me l'ha salvata nell'accidenti di galleria! È colpa di GTA! Andiamo avanti, va! Ti sei calmata un pochettino, Ferre! Se non mi dà il mezzo punto non continuo, eh! Ferre! No, perché tu mi hai visto che la prima volta l'ho fatta e non me l'ha salvata nella galleria, Steph! Adesso tocca a te! Vai, son calma! Vai, Steph! Vai! Allora, io ho pensato... Chi è che si arrabbia sempre? Io! Quelli che lavorano nell'ambulanza! Ah, non io! Quindi, voglio riuscire a fare il selfie con loro, perché sarebbe epico! Allora, vediamo un pochettino! Secondo me, il tempismo giusto è preparare tutto! Stanno andando via, stanno andando via! Di già! Sì, sì! Vedi che non è semplice, Steph! No, che non è semplice, l'ho capito! Eh, te l'ho fatto notare, non lo è! Ok! Coraci! Mentre lui si rialza, che questa tattica Ferre non l'ha fatta! Mi sono fotografato da solo, non ci posso credere! Eccolo! Ce la faccio! Ce la faccio! Visto cosa si prova, Steph! Sì, ma io tre volte! Visto! Tre volte, Ferre! Cioè, ormai sto aprendo il telefono per sbaglio, non capisco più nulla! E che io? Che a me è capitato? Allora, lo butto giù adesso, corro, 3, 2, 1, metto il telefono, giro subito la fotocamera, L'ho preso! Fai vedere! Voglio le prove! Dov'è? Dalla galleria! Ce la faccio! Ce la faccio! Ce la faccio! Allora! Controlla! Vediamo! Ok! Ho spammato invio! Allora, vado! La galleria dov'è? Dal menu, Steph! Non dal cellulare! Dal menu! Quindi qua? Sì, devi cercare gallerie e trovi la... Online? Dov'è? No, no, galleria, è proprio la sezione, cercala! Ah, ok! Dimmi che c'è! Stava salvata! Però non ti sta proprio pensando! No, vabbè, in procinto di picchiarmi, quindi va benissimo! Ok, ok, ok! Passiamo a quella successiva! Allora, voglio qualcosa di un pochettino più tranquillo dopo tutte queste cose super difficili! Eh, direi, sì, è stato pesante! Una sfida di selfie con panorama! Ok, va bene! Sì! Chi si becca al panorama migliore? Io voglio andare tipo sul Vinewood, ma quando fai la foto a Hollywood, capito? Voglio andare lì! Bellissima idea! Non mi ricordo bene dov'è, ma voglio andare lì! Io ho pensato a dove fare il mio! Sto correndo, Steph! Voglio il tramonto! Voglio il tramonto! Voglio il tramonto, sì, sto furba, però non ci arriverò mai in tempo! Secondo me ci arrivo di notte e farà schifo! Eh, se arrivi di notte senza flash, Ferretti esce una porcheria, eh! Vuoi vedere il mio schermo? No! Guarda il mio schermo! Ok, più o meno è qua, forse! Dove sei andata? A casa tua? Sì! Fai schifo! Aspetta, non è un panorama, devi starci nel posto, non devi stare in una finestra! Oh, 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 oh! Che wow, wow, wow! Se questo non è un panorama, poi guarda, dimmi che non è una foto da Instagram, cioè guarda il mio personaggio! No, non lo voglio più vedere! Eh, spettacolo, 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 e sai cosa faccio? Ne faccio addirittura due per far scegliere ai consolini quella che preferiscono, quindi una di così e poi una proprio di spalle, eh, guardate, guardate qua! Ma che spettacolo, che panorama! Ma dove è il tramonto di lì? Ci sono, Steph! Ok! Allora, praticamente non trovavo la scritta! Ok! Ho sclerato come il mio solito, ho trovato un bellissimo centro di studi, mi ci sono messa sul tetto, sopra, nel cornicione, e ho fatto la foto! Però è molto bella, c'è davvero bella! Si vede tutta la città, quindi secondo me è bella, adesso ne faccio anche io più di una! No, Fede, Fede, dobbiamo fare quella successiva! Ne faccio due! Dobbiamo fare quella successiva, Fede! Quindi anche da me possono scegliere il selfie più bello! Dato che stiamo entrando nel tema social, ok? Adesso dobbiamo andare a fare la foto dopo che ci siamo tagliati i capelli! Ma io li ho già tagliati da poco, non li posso ritagliare! Fede, te li devi ritagliare, mi dispiace, ma... Ho anche la cuffia, non mi si vedono! Vuoi togliere un punto? No! Te lo togliamo, il punto! Buongiorno, sì! Allora, io ne faccio una extra, dato che mentre sto aspettando Fede e Consolini, valutate anche queste foto extra che Steph vi fa, che secondo me comunque... Ascolta, non è una gara di fotografie, è una gara di selfie! Con il mio parrucchiere besti besti preferito! Che poi l'hai fatta anche nella realtà! Guarda, un po' Fede me li sono fatti anche all'ultima mora, dato che c'ero! Ti piaccio? È un mostro! E visto che ci sono, rimetto anche in mezzo a lui, dato che ha fatto un'opera d'arte! Bravissimo, bellissimo taglio! Ok, Steph, sto facendo! Adesso me lo faccio anche io con la mia parrucchiera! Sì, guarda come esce bene! Togliti! Dai, non ti voglio! Allora, tu sei quello sfigato, ok? Ok? Rimani nella foto, ma sei quello sfigato! Ok? Quello che viene preso per sbaglio in una foto è la rovina, capito? Aspetta, allora mi devo mettere... Ne faccio un'altra, no, però dai, perché non voglio quella... Mi stavo mettendo nell'angolino! Vabbè! Comunque, Fede, abbiamo completato la nostra sfida di selfie! Erano cinque testa, quindi i consolini avranno cinque sondaggi per dire che ha fatto un lavoro migliore e si sono carini come i capelli! Ma anche tu e alla fine ti stanno bene! No, ma vedi com'è brutto il lato! Beh, ragazzi, lasciateci un like! E se è la prima volta che avete il nostro video, potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti.